Siamo nella sede dell'Opera Medicia Laurenziana e siamo col suo presidente Paolo Padoin. Siamo qua per parlare del restauro, dell'inaugurazione che c'è stata da poco, del restauro dei Pulpiti di Donatello, due opere meravigliose che finalmente dopo sette anni di lavori da parte dell'Opificio delle Pietre Dure sono state restituiti alla Basilica di San Lorenzo, ai Fiorentini e possiamo dirlo a tutti gli amanti del bello e dell'arte che frequentano questa Basilica. Sì, è stata un'emozione particolare perché sono presidente dell'Opera Medicia Laurenziana da tre mesi, più o meno, e uno dei primi adempimenti che ho avuto la fortuna di curare è stata proprio la presentazione dei Pulpiti di Donatello in San Lorenzo, che erano in restauro da sette anni. Il primo, quello della resurrezione, era stato già, fra virgolette, inaugurato nel 2014 e era stato però ingappiato con pannelli di plexigas per far vedere agli studiosi più da vicino il restauro e, cosa non secondaria, l'ingresso era assoggettato, fra virgolette, all'obolo di un euro per contribuire ai restauro dell'altro pulpito ma anche ad altri restauro della Basilica. Che aveva problemi maggiori, quindi ha richiesto un lavoro più lungo. Il primo sì, il secondo aveva anche questi problemi, soprattutto credo per la parte linea, però è stato fatto in tre anni sostanzialmente, perché è cominciato nel 2014, è stato finito adesso. Io l'ho seguito per tre mesi andando quasi giornalmente a vedere gli straordinari operatori, tecnici, professori dell'Opervicio delle Pietre Dure che veramente hanno lavorato con eccezionale competenza e passione. Possiamo dire l'eccellenza mondiale del restauro. Sicuramente, l'eccellenza mondiale sicuramente e abbiamo un particolare, parlando con la dottoressa Maria Donata Mazzoni che era la capo equip del restauro, una delle loro preoccupazioni era anche quella, giustissima, di restaurare nei colori che erano naturali e tutti i reti, però anche di non far notare troppo la differenza di colori fra il pulpito restaurato tre anni fa e il pulpito. Ci sono perfettamente riusciti, ovviamente qualche sfumatura si vede della differenza, però non si nota. È stata un'emozione così grande quando abbiamo liberato tutto ad un colpo il pulpito della risurrezione dai pannelli di plexigas e dal tornello, il pulpito della passione dai pannelli, dalle impalcature di legno che lo ricorroprivano completamente. con Monsignor Viola, l'ha visto prima lui e poi la mattina mi ha chiamato, il priore di San Lorenzo, mi ha chiamato per vedere questo spettacolo e effettivamente con la luce anche naturale che proveniva dalla finestra e dagli oblò della basilica, l'effetto è stato veramente meraviglioso, una profondità stupenda che non si vedeva da tanto tempo della basilica e allora all'unisono abbiamo deciso di rinunciare a montare un'altra volta il pulpito, i pannelli trasparenti, chiamiamoli così, dalla parte del pulpito della passione per restituire questa visione così complessiva, bellissima, alla basilica, a Firenze e a tutti quanti amano l'arte e la cultura. Al di là dell'eccezionale lavoro artistico di restauro e tutto il resto, mi premeva sottolineare un aspetto. Innanzitutto il ringraziamento a tutti quelli che hanno operato, l'Ottificio delle Tettature e tutto il resto, ma chi ha contribuito materialmente al restauro? In primo luogo la fondazione della Cassa di Risparmio, in secondo luogo il Ministero per i beni culturali, in terzo luogo ovviamente l'Opera Medicia-Laurenziana, ma a questo proposito voglio sottolineare un aspetto che è unico forse nell'intervento del pubblico e della popolazione per il restauro di beni culturali, che circa un terzo di quello che è costato il restauro, 300 mila euro circa, del pulpito della passione, è venuto dagli euro che sono stati offerti dai visitatori, dai turisti che hanno voluto vedere da vicino l'Opera di Donatello Pulpito della Regolazione restaurata e questo credo che sia un esempio forse finora unico al mondo. Quindi possiamo dire la sinergia tra l'ente pubblico, tra il semplice visitatore, insomma un contributo che ha unito tanti soggetti, tante persone nel segno di un amore comune per l'arte. Due opere, appunto questi due pulpiti che hanno un valore artistico immenso, un valore storico grandissimo, ma anche una basilica che significa molto per la storia artistica e per la storia religiosa di Firenze. Sicuramente questa è la prima insediamento, la prima basilica al 393, se non ricordo male, poi fu sconsacrata addirittura da Sant'Ambrogio. Mi sembra di aver letto da qualche parte che quando è stato finito il Duomo, la prima basilica fiorentina esisteva già da più di mille anni, anche molto di più. E poi ovviamente fu la culla del cristianesimo fiorentina. E era, come succedeva allora, fuori porta, cioè era al di là delle mura, perché San Lorenzo allora era al di fuori delle mura, oggi vediamo gli scalini, diceva il peore che prima ci doveva essere una collinetta, qualcosa, che teneva sopraelevata la basilica particolare che ha salvato i tesori che c'erano in San Lorenzo dall'alluvione, perché ovviamente essendo sopraelevata non ha patito più di tanto i danni dell'acqua che arrivava. E questa chiesa, direi, è famosissima come basilica, ma anche perché conserva in tutto il complesso, come dice il laurentiano, le opere di artisti eccezionali. Brunelleschi, che l'ha costruita Michelangelo, che aveva a suo tempo pensato anche a una facciata che poi è rimasta incompiuta, come la vediamo adesso. E che poi ha realizzato le splendide tombe della famiglia Medici. Diciamo la cappella di San Lorenzo e poi la sacristia nuova. La controfacciata, che noi vorremmo valorizzare, magari lo spiegherò dopo, con delle visite guidate a luoghi non molto conosciuti perché non sono stati aperti, finora alle visite normali, diciamo così, dei turisti e della popolazione. Veramente abbiamo adesso recentemente fatto un convegno sul restauro della annunciazione di Filippo Lippe, che è nella cappella Martelli. E anche quello grazie sempre all'intervento di privati, alla fondazione Friend of Florence, con la quale abbiamo una collaborazione eccezionale. E' un po' l'indirizzo che vogliamo perseguire e proseguire. Ho parlato di diverse iniziative che sono state o realizzate in questi due mesi o programmate, lo dirò, nel prossimo mese di giugno-luglio. Perché? Perché abbiamo deciso con il Consiglio d'amministrazione, ma soprattutto con Monsignor Viola, che è il proprietario della Basilica, ovviamente a lui dobbiamo fare riferimento. E con cui c'è una bella collaborazione. Certo, con cui c'è una bella collaborazione, di indirizzarci verso mostre, manifestazioni, attività, che siano in collegamento con l'eccezionale valore artistico, religioso, artistico e storico, di queste mura, di questa basilica, di questo complesso. Quindi la prima è stata la Most Arte e Fede, che credo mi sembra di aver visto anche su Toscana. Certo, certo. Pubblicizzata e che merita perché ha un ottimo successo di pubblico e anche di critica. Poi abbiamo fatto la presentazione di Pulpiti, il convegno sull'annunciazione di Filippo Lippi, Il 14, sempre nella Sala Borsi, ci sarà la presentazione di alcuni codici restaurati. Il titolo della discussione è San Lorenzo a Florentine Church. E si discuterà proprio di alcuni codici restaurati, che saranno mostrati, ovviamente, se stanno nel nostro archivio, e che uno dei quali è stato ripreso e restaurato a cura della fondazione Villa Itatti. Quindi anche in questo caso la collaborazione pubblico-privato che cerchiamo di privilegiare ha dato ottimi risultati e cerchiamo di andare avanti così. Il 15 e il 16 ci sarà il convegno sui pulpiti, perché sui pulpiti restaurati, ovviamente tutti i maggiori studiosi mondiali discuteranno, interpreteranno e faranno le loro valutazioni. Anche quello è stato organizzato dall'Opificio delle Pietre Dure, sarà alla fondazione della Fassa di Risparmio e con l'intervento anche dell'Opera Medicina Laurenziana. Questo dà un po' l'idea di quello che è l'indirizzo che vogliamo dare alla nostra attività. Delle manifestazioni di altissimo livello che valorizzino il nostro complesso e con occhio, ovviamente, anche alla finanza. Ma, come si diceva in Consiglio d'Amministrazione, diciamo, la parte economica e la parte commerciale nel nostro caso non deve prevalere sulla parte artistica, sulla parte spirituale e su quello che è la finalità della nostra opera. Bene, quindi tante cose belle da scoprire dentro San Lorenzo, intorno a San Lorenzo, non solo, i pulpiti di Donatello e noi ringraziamo il Presidente dell'Opera Medicina Laurenziana, Paolo Pado. Grazie a voi e buonasera. E alla prossima. Grazie. 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 Grazie.